Ciao a tutti, benvenuti in questo video, sono molto contenta che siate qui. Oggi parleremo di un tema che mi è stato molto richiesto da tutti voi e finalmente siamo qua per parlare del diritto d'autore. Io oggi sono qua per intervistare Sebastian di Rike Chain, che intanto saluto e ringrazio ancora per avermi dato, per essere qui, per avermi dato appunto l'opportunità di intervistarlo. Vi riassumo un attimino, vi faccio una piccola introduzione su chi è Sebastian, poi dopo lui ci spiegherà meglio. Allora, Rike Chain intanto è una piattaforma che offre ad artisti e quindi anche aziende una serie di strumenti per creare appunto una gestione semplificata dei propri diritti d'autore nell'era digitale. Cosa significa questo? Significa che la loro piattaforma, quindi il loro sito web, consente ai creatori di contenuti, quindi a noi artisti in questo caso, di registrare i propri lavori digitali, quindi le vostre illustrazioni, i vostri fumetti, adesso poi approfondiremo un attimino questo aspetto, e attribuire ai vostri lavori la paternità, quindi associare il cosiddetto copyright, quindi il diritto d'autore. Sebastian, intanto ancora benvenuto e grazie mille per aver accettato questa intervista di essere qui. Grazie, grazie per l'invito e per la disponibilità, siamo sempre felici di partecipare a questo tipo di iniziative. Allora, mi chiamo Sebastian, nel 2017 ho fondato la società Rites Chain, assieme ad altri colleghi e collaboratori, con l'intento di offrire uno strumento che permettesse agli artisti, soprattutto chi lavora in ambito digitale, di creare, come diceva Lisa poco fa, di creare un atto di paternità del lavoro realizzato. Io per più di vent'anni, ancora correntemente, mi sono occupato di cyber security e protezione dati in ambito privato, quindi aziendale, sono un collezionista e un accanito lettore anche di manga e altri, chiaramente letteratura di vario genere, girando per le fiere, più precisamente al Cartoon Mix, forse del 2015 o del 2016, ho cominciato a sondare un po' il terreno, mi sono reso conto di questa esigenza, di questo abbandono che sentono molti relativamente alla protezione dei dati. Da lì ho cominciato a studiare, un po' per interesse, un po' anche per sfida dell'argomento, un po' ad approfondire l'argomento diritto d'autore, scoprendo un mondo estremamente vasto e ampio, complesso, io lo chiamo il ginepraio, però altrettanto importante e di vitale importanza. Il diritto d'autore che cos'è in termini molto brevi? E' quell'insieme di leggi internazionali che tutelano il lavoro artistico di un autore, tutelano da un punto di vista morale, quindi quello che è il diritto al riconoscimento di essere autore o autrice di un determinato lavoro, e che quindi qualcuno non possa appropriarsi di dire io ho fatto questo disegno quando in realtà l'ha fatto qualcun altro, cosa che capita piuttosto sovente, e quello che sono i diritti patrimoniali, ovvero la possibilità e il diritto di poter usufruire dell'opportunità di guadagnare del lavoro artistico di propria creazione. Quindi se io scrivo un libro piuttosto che realizzo un manga, un fumetto in generale, ho tutto il diritto in qualità di autore, come anche chi ha partecipato, se c'è qualcuno che ha partecipato, di guadagnare di quell'opera, quindi su quell'opera realizzata. Per cui in termini molto brevi e semplificati, questo è quello che è il diritto d'autore. Ed è una cosa che esiste, non è necessario registrarsi alla SIAE piuttosto che ad altri enti per avere la tutela del diritto d'autore, perché questi enti si occupano di altre cose, che poi magari vediamo nell'arco dei prossimi minuti, oppure un approfondimento dedicato. Certo, volentieri, volentieri. Quindi diciamo che allora un artista per proteggere le proprie opere, perché poi è quello che vogliamo fare, tutelare il nostro lavoro, perché comunque l'abbiamo creato noi e non vogliamo che qualcuno ci speculi sopra o addirittura che insomma lo spacci per proprio, ecco che purtroppo nel digitale capita spesso. Quindi diciamo per tutelarci dobbiamo utilizzare questo copyright, poi è il diritto d'autore e il copyright perché non lo sapesse comunque, è la stessa cosa. È la versione inglese, è la versione inglese. Ci devono specificarlo perché magari tanti me lo chiedono, è la stessa cosa. Quindi quando sentite copyright e diritto d'autore sappiate che stiamo dicendo la stessa cosa. Esatto. Dunque in breve, questo è un piccolo cenno storico. Prima dell'era internet il diritto d'autore avveniva con quello che è il tema della prima pubblicazione o resa pubblica di un lavoro. Quindi l'editore prendeva un manoscritto, piuttosto che un'opera, piuttosto che un'illustrazione, la pubblicava, quello diventava il momento in cui, da cui decorreva il diritto d'autore. Quindi dal momento in cui l'opera era tutelata dal copyright. Con l'avvento di internet, ovviamente la prima pubblicazione è domando via email. Questa è una cosa importante perché molti lo sottovalutano. Io nel momento in cui mando a qualcuno il mio lavoro, quello è già un atto di pubblicazione. Quindi ho già mandato anche solo un individuo. Da quel momento decorre il... Interessante questo. C'è capitato di vederlo spesso, ad esempio, sulle commissioni. Io ho mandato il lavoro a qualcuno. Eh, però non c'è il copyright, perché l'hai mandato solo a me. No, l'ho mandato a qualcuno, ho reso qualcuno a conoscenza del mio lavoro e da quel momento decorre il copyright. Poi ovviamente ci sono i social media. I social media... Io pubblico un'immagine sui social media e da quel momento decorre il mio diritto d'autore. Il problema qual è? Il problema è che il social media ha tutta una sua vita molto particolare e l'opera può essere cancellata, rimossa o comunque copio in collo o pubblico sul mio profilo, quindi il classico repost, e l'opera va sul profilo di qualcun altro. Il problema è dimostrare effettivamente chi ha realizzato per primo quel lavoro. Per cui è lì che nasce la difficoltà, perché non esiste la norma internazionale, quindi quello che è la Convenzione di Berna, che governa il diritto d'autore a livello internazionale, dice che il diritto d'autore decorre dal momento in cui io lo pubblico la prima volta. Il problema è poi dimostrarlo. Quindi io come faccio a dimostrare di essere l'autore originale di quel lavoro? Quello che noi abbiamo fatto all'interno del nostro progetto è creare un sistema che permetta di mettere questa marcatura temporale, questo timbro di proprietà e di registrazione sui lavori che vengono caricati, in maniera che dovesse succedere qualcosa, l'autore o l'autrice può prendere il link che noi mettiamo a disposizione, non scade mai questo link, lo fa vedere, gira il link a chi deve fare la contestazione, e ha la carta di identità digitale del lavoro che ha fatto, per cui con data di registrazione, il nome d'arte, la nazione di provenienza, e altre informazioni che hanno validità legale. Sono su cinque anni che lo stiamo usando, già lo usano anche per fare takedown da Amazon, piuttosto che altri portali in cui vengono utilizzati i lavori, per cui abbiamo il piacere di avere riscontro anche positivo sull'utilizzo. Poi, ripeto, l'argomento è ampio, quindi se ne potrebbe parlare per ora. Per ora, immagino, immagino. Ma quindi consigli di caricare prima il lavoro sul vostro sito web, e poi sul vostro portale a questo punto, visto che viene messo il marcatore temporale, e poi dopo caricarlo su social media? In linea generale, l'obiettivo è quello di tutelarsi quanto prima, e il quanto prima vuol dire finché il lavoro è in casa dell'autore stesso, dell'autrice. Dopodiché, prima di mandarlo a qualcuno, perché a una commissione, a un editore, piuttosto che a un'azienda, piuttosto che a chiunque altro, sì, è meglio avere una tutela documentata del lavoro fatto, e del fatto di essere proprietario di quel lavoro. Dopodiché può essere pubblicato, può essere diffuso attraverso qualsiasi sistema, però almeno c'è un punto di partenza che è ben definito. Una volta che il lavoro viene reso pubblico, tracciarlo è virtualmente impossibile, perché può seguire una serie di canali assolutamente vasto, al di là dei repost che ci possono essere sui vari social media, i siti che prendono lavori dai social media, i siti che prendono dai siti che prendono dai social media, Telegram, veramente la tracciabilità diventa un problema. e ad oggi non c'è azienda che sia riuscita a farlo, comprese le varie Sony, Universal, eccetera, che lavorano su quello che è chiamato il DRM, il Digital Rights Management, non c'è tecnologia ancora oggi che permetta un tracciamento puntuale delle opere. Per cui avere la tutela legale è la cosa più efficace che si può avere ad oggi. A questo punto mi viene da chiederti, so che ci sono diversi tipi di copyright, ammetto che io sono una neofita sull'argomento, però comunque so che ci sono diversi tipi di copyright che si possono applicare, in questo caso, alle opere, quindi alle illustrazioni, per esempio. Potresti spiegare a chi sta guardando questo video quali sono le differenze, magari tra queste tipologie, in modo che un artista abbia dei più chiari su quelle che può applicare alle sue illustrazioni o ai suoi fumetti quando li carica online per dichiararne la paternità? Allora, qui entriamo un po' nel discorso del ginepraio del diritto d'autore. L'autore ha tutti i diritti riservati sul proprio lavoro, quindi di base, se io rendo pubblico un lavoro, io ho tutti i diritti riservati su questo lavoro, quindi posso decidere se qualcuno può monetizzarlo o meno, posso decidere io se può essere pubblicato o meno, se può essere utilizzato anche in un solo contesto, quindi ho l'autorità, posso anche decidere che non venga esposta a una mostra perché va in conflitto con i miei principi morali, per cui adesso siamo in periodo di elezioni, non voglio che un mio lavoro sia utilizzato da un partito politico per la propria campagna, ho il diritto di oppormi a questo tipo di lavoro. Con la campagna elettorale di Trump, ad esempio, ci sono stati diversi artisti che si sono opposti all'uso dei propri brani musicali nella campagna perché erano ovviamente contrari a quello che è la filosofia politica del candidato all'epoca. Quindi io generalmente se pubblico un lavoro, il lavoro è tutti i diritti riservati, la solita voce che sentiamo dire, quindi il come posso utilizzare il lavoro che è tutelato da tutti i diritti riservati, la condizione è contattare l'autore e chiedere il permesso di utilizzarlo, specificando per cosa lo voglio utilizzare e come. Ho anche la possibilità di limitare contrattualmente l'utilizzo, quindi faccio un esempio molto pratico, noi quando commissioniamo un lavoro per la parte di comunicazione nostra, ad esempio per le immagini di copertina del sito, indichiamo che il lavoro viene utilizzato solo ed esclusivamente per un determinato fine, quindi comunicazione, presentazione dell'azienda, ma non verrà utilizzato per fare merchandising. Quindi nel momento in cui volessimo fare del merchandising con quell'opera, dovremmo richiedere con l'autore un altro tipo di contratto, un altro accordo, perché chiaramente ci sono dei vincoli. Quindi l'autore ha la facoltà di scegliere che cosa si può fare con quel lavoro oppure che cosa no. Dopodiché esistono delle semplificazioni. Le semplificazioni quali sono? Il contratto che ti arriva dall'editore, che di solito è un preconfezionato in cui è già definito quali sono le finalità di utilizzo. Lì è sempre bene dare una lettura, magari facendosi affiancare da qualcuno, perché magari ci sono delle clausole nascoste, però effettivamente ci sono già degli accordi che stabiliscono come verrà utilizzato il lavoro, oppure ci sono le licenze Creative Commons. Le licenze Creative Commons sono un insieme di regole riconosciute a livello internazionale, sono riconosciute in 197 stati di tutto il mondo. Ce ne sono 211 gli stati al mondo, 197 riconoscono il Creative Commons, quasi tutti tranne 3 o 4 riconoscono la convenzione di Berna, quindi è una cosa che si applica a livello internazionale e a copertura legale internazionale. Il Creative Commons che cos'è? È un insieme di licenze, che sono le CC BY qualcosa, che si basano su quattro pilastri, che sono l'attribuzione sempre presente, il BY che leggete è l'attribuzione dell'autore, quindi se io utilizzo un lavoro diffuso come Creative Commons, devo sempre citare autore e fonte del lavoro. Poi ci sono l'utilizzo commerciale, se posso autorizzo o meno la diffusione del lavoro a scopo commerciale, quindi monetizzandolo tramite sfondi, ad esempio dei video su YouTube, piuttosto che stampandolo su delle magliette, stampando le magliette, quindi posso decidere di fornire o non fornire questo tipo di concessione, e le opere derivative, quindi le opere derivate, quindi io ho la possibilità di dire dai il mio lavoro, puoi prenderlo, remixarlo, ad esempio nella musica puoi remixarlo e creare un brano derivato dal mio, però sempre riconducendo la... mi manca la parola, ovviamente, riconducendo l'auta paternità, ecco la paternità, chiedo scusa, interessante, assolutamente sì, quindi questi sono i tre pilastri fondamentali, combinando, quindi il quarto pilastro è combinando queste varie soluzioni, viene creato un contratto di licenza vero e proprio, in cui, con cui l'opera può essere pubblicata, quindi io ho le varie CCBuy, Buy NCND, che hanno proprio un valore legale, e c'è un testo legale pubblicato sul sito del Creative Commons, che stabilisce quali sono tutti i vincoli, che sono riportati all'interno, sono attribuiti a quella licenza, per cui, l'uso non commerciale viene definito esattamente che cosa si intende per l'uso commerciale, e perché non è consentito il suo utilizzo, in quei termini. Sono delle semplificazioni, quindi l'autore può decidere, o fare tutti i diritti riservati, oppure concedere, oppure concedere una delle licenze Creative Commons. Una cosa molto importante, stabilita la legge sul diritto d'autore, quindi la licenza attribuita a un lavoro, non si può più cambiare, perché diventa estremamente... Ah, una volta firmata, una volta messa non si può più modificare. È legalmente impossibile, per cui è meglio pubblicarla con una licenza molto stretta, e magari concedere, tollerare un determinato tipo di utilizzo, piuttosto che dire, io la apro a tutti quanti, e poi pensare di stringerla. Ecco, questa cosa non è fattibile, ma non è fattibile tecnicamente, da un punto di vista legale. Ho capito, ho capito. È possibile applicare il copyright, per appunto il diritto d'autore, soltanto alle illustrazioni, oppure ci sono anche altri ambiti nei quali può essere utilizzato? Per esempio, fumetti... Il diritto d'autore copre tutto quello che è l'ambito creativo e artistico, quindi tutto quello che spazia dalla letteratura all'ingegno, per intenderci, quindi anche se io ho un concept art, il concept art, ad esempio, è assolutamente tutelato dal diritto d'autore, così come anche l'architettura, le opere architettoniche, soprattutto rientrano in tutto in quello che è l'ambito di diritto d'autore. Quindi tutto quello che non può essere riprodotto meccanicamente, perché è frutto dell'ingegno, appunto, della creatività della persona. C'è una diatriba enorme sul tema intelligenza artificiale, poi negli ultimi settimane abbiamo visto Mid Journey esplodere con lavori oggettivamente, creativamente impressionanti, però quelli non sono ancora, per la legge attuale, non sono tutelati dal diritto d'autore, quindi perché sono frutto di un'elaborazione di banche dati esistenti, quindi non è una cosa creativa nata dal nulla, ma è una cosa nata da un progresso molto importante ed è creata meccanicamente, per cui questo è un tema che sarà ampio nei prossimi mesi e anni, perché se ne parlano parecchi. Immagino, avevo visto anch'io qualcosa e infatti sì, ci sono molti artisti che magari sono un po' preoccupati da queste cose, però casomai eventualmente poi approfondiremo. Adesso volevo farti una domanda in realtà su un tema che mi è stato veramente richiesto tantissimo, le famosissime reference, cioè quello che gli artisti usano come riferimento per realizzare una propria opera, quindi una delle domande principali sono appunto, ma dove le prendo le reference, posso utilizzarla, quali reference posso usare, che rischi corro se sbaglio, cosa succede, posso usare questo disegno, questo riferimento per crearne uno mio, quindi la mia domanda in realtà è questa. Come facciamo noi artisti, perché comunque chi guarderà questo video comunque siamo principalmente artisti, come facciamo a capire se possiamo utilizzare questa reference, magari una fotografia o un'illustrazione per il nostro disegno, per la nostra opera, quali sono gli aspetti principali diciamo da considerare per dire se posso o no non posso? Penso che la cosa più importante da definire sia cosa sia il plagio. Il plagio è quando io ho un lavoro fatto da qualcun altro, lo riproduco in maniera quasi esatta, magari cambiando pochi riferimenti del personaggio originale, cambio pochi riferimenti e ci metto sopra la mia firma e dico questo qua è un lavoro che ho fatto io. Ecco, quello è sostanzialmente plagio, per cui prendere il lavoro di qualcuno, renderlo, personalizzarlo in minima parte, perché qui stiamo parlando di minima parte, poi marcarlo come lavoro proprio, quello viene contestualizzato come plagio ed è fondamentalmente un crimine, quindi di fatto stiamo commettendo un reato. Certo. Minore però è comunque considerato un crimine. Utilizzare le reference. Beh, diciamo che io parto dal... Ultimamente è ripartito il quarto episodio di Matrix. Matrix è ispirato fortissimamente, anche se non si dice, a cultura cyberpunk giapponese. Gli stessi all'epoca fratelli Wachowski hanno detto di aver preso, tratto ispirazione da Ghost in the Shell, dai lavori degli artisti dell'epoca, si sono ispirati moltissimo ad ambienti di quel genere, per cui hanno preso delle reference importanti da quel mondo. Anche le stesse macchine che vengono presentate all'interno del film sono ispirate in realtà all'autore originale di Ghost in the Shell, Apple Sea e altre opere sci-fi, cyberpunk dell'epoca. Quindi le reference sono importanti perché permettono poi anche di spaziare e trovare una visione nuova. Io non sono un artista, quindi riporto anche quello che viene detto all'interno del nostro gruppo di lavoro, di colleghi e colleghe che fanno illustrazioni, usano anche loro le reference, ovviamente, perché magari gli serve quella posa specifica, qualcosa di particolare, un indumento, qualcosa. È inevitabile prendere dei riferimenti. Dove sta la soglia di tolleranza? La soglia di tolleranza è se una persona magari è dell'ambito, tornando al discorso cyberpunk, guarda, ho un personaggio cyberpunk, gliene mettiamo un altro a fianco, se pensa che sia la stessa persona, è chiaro che c'è un problema. Quindi lì è un po' anche una questione di tolleranza e di sensibilità dell'individuo. Se io prendo Topolino e lo faccio in versione uguale, è chiaro che quello è plagio. Se io prendo il personaggio della Disney, non è esattamente il massimo, però se prendo un personaggio della Disney perché mi ispira per fare un'altra cosa che comunque non è riconducibile, non ti porta a pensare che quello sia Disney, allora quello è una reference che uno può prendere serenamente. Però, ripeto, è chiaro che già soltanto guardando la natura uno dice che quella è una reference. Di fatto, ci sono degli artisti negli anime giapponesi che tracciano le foto per riprodurre il paesaggio. Sì, questa cosa l'avevo vista. Infatti mi domandavo anche io ma questo cos'è, plagio oppure no? Perché è la stessa zona, stessa foto. In realtà è la riproduzione di un ambiente, quindi io posso tranquillamente, tranquillamente, anche lì bisognerebbe stare attenti, però posso usare come reference un'ambientazione piuttosto che un luogo. Ho degli artbook di alcuni artisti che hanno palesemente dichiarato di aver preso delle reference importanti che all'inizio tracciavano addirittura per farci la mano prima di sviluppare un loro stile. Quindi fa parte di un processo evolutivo e fa parte anche di un processo di crescita. Il limite morale, ritorniamo al discorso dei diritti morali, il limite morale è quello di dire ok, lo sto facendo perché mi serve per creare una cosa che effettivamente è mia e non sto prendendo il lavoro di qualcuno, lo sto rendendo mio. Quindi questa è una differenza sostanziale tra una reference e quello che poi è un riferimento perché magari mi serve esattamente quel tipo di abbigliamento, quel volto, quel tratto caratteriale che mi permette di sviluppare comunque una cosa mia. Il limite è sottile e chiaramente ripeto dipende molto da quanto si sovrappongono quei personaggi quindi andrebbe fatto un raffronto tra un lavoro e un altro per vedere quale sia il confine tra le due cose. Ecco, quando hai citato anche i personaggi della Disney e altri mi sono venute in mente un attimino anche le fan art perché chi mi segue è appassionato, insomma sono appassionati di manga io stessa comunque leggo manga guardo gli anime e tante volte mi capita di riprodurre un personaggio perché magari mi piace mi sono immedesimata in quel personaggio e quindi creo la famosa fan art quindi in realtà mi verrebbe da farti anche questa domanda perché ci stiamo ispirando a un personaggio che già esiste quindi è un'opera che non è stata inventata da noi ma è un'opera che diciamo è stata creata il character design, il personaggio non è nostro ma è di un'altra persona quindi come facciamo a capire se posso creare se possiamo creare la fan art di quel personaggio magari abbiamo visto una posa che ci piace perché io spesso perché ci tengo a specificarlo spesso davvero vedo delle pose per esempio Sailor Moon quando lancia diciamo il suo cristallo d'argento quando lancia il suo potere per sconfiggere i nemici io ho visto tantissime fan art ispirate esattamente a quella scena cioè lo screenshot rifatto poi però nel loro stile quindi anche in questo caso per esempio come facciamo a dire che posso fare questa fan art oppure no se io la faccio corro il rischio di essere accusata di plagio o comunque di non aver rispettato il copyright le fan art di base rientrano in quello che è una zona grigia estremamente nebbiosa del diritto d'autore diciamo che da un punto di vista strettamente legale fare una fan art e pubblicarla con la propria firma sotto non è consentito perché sarebbe fondamentalmente plagio la realtà qual è? è che è un'interpretazione personale di un lavoro di qualcun altro quindi se io guardo il personaggio che so io di My Hero Academia il primo che mi viene in mente perché ne ho viste frotto sì sì l'ho visto l'anime ha letto anche il manga se guardo un personaggio so che quello è un'opera di My Hero Academia è chiaro che sono portato a pensare che l'artista del caso abbia fatto una fan art reinterpretando il personaggio per esercizio per passione poi c'è tutto l'aspetto anche fan lo dice la parola stessa del lavoro quindi è un genere di opera estremamente tollerato in alcuni casi addirittura incentivato Genshin Impact ad esempio ha una pagina dedicata in cui specifica in che modo gli artisti indipendenti possono creare fan merchandising quindi merchandising fatto dai fan e addirittura commercializzarlo quindi ci sono dei limiti entro i quali loro tollerano questo tipo di operazione perché? perché è marketing gratuito quindi c'è un guadagno importante attorno a questo Genshin Impact ha sicuramente un ritorno di marketing enorme dal fan merchandising e dalle fan art che vengono pubblicate quindi lo sfruttano a proprio favore se voglio fare una tiratura superiore di un determinato pezzo devo chiedere il permesso tecnicamente la cosa è tollerata soprattutto il mondo già il mondo asiatico tollera molto il discorso fan art fin tanto che non si superano i limiti di questa tolleranza i due limiti quali sono? Morali se io vado a fare una fan art prendiamo ad esempio le dojinshi che sono un tema caldo in Giappone che superano quello che sono i diritti morali dell'autore quindi magari sfocio in quello che è una sfera che non voglio venga a essere toccata con i miei personaggi oppure c'è chiaramente il limite economico prima ho menzionato Disney perché Disney è un accanito osservatore dei diritti d'autore non tollerano praticamente nulla e se possono farti causa la fanno causa finito il discorso quindi hanno sono veramente dei golem per quanto riguarda l'approccio alle fan art soprattutto se devono essere commercializzate quindi se invece si segue il percorso normale magari voglio fare una vendita di un prodotto fan made dovrei chiedere il contatto con il detentore dei diritti originali e quindi avere l'autorizzazione scritta del fatto di poterlo fare e anche lì verrà scritto qual è il limite quanti pezzi piuttosto quali sono i riconoscimenti e ovviamente quanto mi costa comprare la licenza certo immagino che qua sul tema delle reference forse arriveranno diverse domande se magari volete approfondire l'argomento fatecelo sapere scriveteci un commento qua sotto che approfondiremo volentieri è un tema abbastanza sentito però qui vogliamo parlare in generale diciamo di cos'è il diritto d'autore comunque ti ringrazio Sebastian di aver approfondito perché è un tema che mi è stato davvero molto richiesto quindi sicuramente arriveranno delle domande in più quindi preparati risponderemo alle domande molto volentieri eventualmente coinvolgendo anche cercheremo di coinvolgere anche chi è più squisitamente sulla parte artistica per cui sa dare dei riferimenti molto più dettagliati su questo tema certo volentieri perché tipo una domanda che a me verrebbe magari in un prossimo video capire come mai cioè tu parlavi di reference o magari ad uso commerciale quindi se c'è differenza fra io faccio un'opera perché voglio venderla o magari faccio un merchandise un portachiavi per esempio o una statuina al no io faccio questa fan art solo per pubblicarla su Instagram per far vedere a me piace questo disegno mi piace questo personaggio secondo me questa sarà una delle domande anche più insomma più richieste comunque vediamo se eventualmente chiedete ecco chiedete mi sarà dato quindi eventualmente lasciate un commento qua sotto a questo punto ti chiedo visto che siamo sempre sul tema del diritto d'autore se esistono dei copyright specifici nel caso in cui noi facciamo una fan art quindi se usiamo una reference facciamo una fan art per esempio tornando su prima su My Hero Academia se io realizzo il personaggio per esempio Uraraka che è uno di quelli che mi piace di più spero di averla pronunciata correttamente ecco se io faccio una fan art su di lei c'è un copyright specifico che devo utilizzare perché è una fan art non è una mia opera originale tecnicamente i diritti sono comunque dell'autore originale quindi qui c'è una distinzione particolare noi quello che suggeriamo è il personaggio di Uraraka è in particolare estremamente riconoscibile quasi tutti i fan la conoscono perfettamente si sa che i diritti d'autore originali sono dell'autore quindi di chi ha creato il personaggio in questione quello che è l'unica cosa su cui uno può tutelare la paternità è il lavoro che è stato fatto quindi il disegno della fan art non il personaggio ma la sua reinterpretazione in questo caso quello è l'unica cosa ad esempio anche sulla nostra piattaforma è possibile è una domanda importante stiamo lavorando per migliorare il semplificare il processo però è possibile registrare una fan art sul nostro sistema la risposta è sì la licenza da attribuire dovrebbe essere una o tutti i diritti riservati perché comunque il fatto che voi abbiate fatto un lavoro non significa che qualcuno può utilizzarlo per rifarci le magliette piuttosto che altro merchandising ma soprattutto perché andrebbe in violazione del diritto d'autore dell'autore originale per cui infatti curiosità estemporanea rights chain deriva dal fatto che è una catena di diritti in cui ci sono una serie di legami tra un'opera e un'altra per cui è da gestire con estrema attenzione quindi il certificato digitale che cosa dà l'impronta digitale la carta di identità digitale del lavoro testificando che la persona in questione ha creato quel disegno poi però i diritti sono dell'autore originale per cui io non posso dire è il mio lo vendo come merchandising in fiera ad esempio perché il lavoro dovreste avere una licenza dedicata che vi autorizza la vendita di quel lavoro per cui quando entrano in ballo i soldi cambiano sempre le regole ci sono delle regole molto più precise la tolleranza degli editori dove sta sta nel capire quanto la cosa impatta economicamente o a livello di immagine su di loro per cui è per quello che è una zona grigia nel caso magari se ci sono degli esempi particolari o delle domande particolari rispondiamo appunto con un prossimo video sull'argomento perché ci sono mille casistiche che possono essere elaborate quindi è più facile rispondere a domande mirate che altro esattamente sì sì quindi vi invitiamo davvero se avete domande specifiche proprio sul discorso fan art e anche diritto d'autore sulle fan art davvero fateci serveteci qua sotto che risponderemo molto volentieri e allora adesso è una domanda che tocca ancora di più gli artisti allora tu prima parlavi di plagio quindi ci hai spiegato bene che cos'è e insomma che è un reato fondamentalmente quindi anche se siamo nell'ambito digitale insomma non andrebbe fatta questa cosa ovviamente non stiamo parlando di reati penali adesso io da ignorante immagino che è un illecito civile in realtà ok perfetto il termine giusto diciamo illecito civile quindi noi usiamo l'opera di un artista spacciandola per nostra quindi addirittura anche senza il suo permesso magari la copiamo identica proprio diciamo questa opera l'ho fatta io no non facciamolo o addirittura vendere magari proprio l'opera un'opera che non è nostra e quindi la mia domanda è a molte delle persone che mi seguono purtroppo è successo è successo questa cosa hanno creato un'opera loro un personaggio originale di loro proprio fantasia senza ispirarsi a un altro personaggio esistente proprio un original character ecco come viene definito e l'hanno plagiato cioè è stato utilizzato magari per crearci del merchandising o addirittura per vendere l'opera stessa cioè un'altra persona ha ricreato la stessa opera mettendoci la sua firma o addirittura cancellando usando la stessa opera cancellando la firma dell'autore originale mettendo la propria e vendendola questa cosa è successa molto spesso come bisogna comportarsi in queste situazioni c'è qualcosa che possiamo fare se ci dovesse capitare una cosa del genere sì allora la risposta è sì si può fare qualcosa bisogna vedere quali sono i costi delle varie cose che possono essere fatte nel senso che si può cercare un accordo personale quindi io dimostro alla persona magari mandandogli una lettera o un'email dicendo guarda che ho visto che hai fatto questo lavoro hai tolto la mia firma eccetera in realtà questo si fa quando c'è un danno economico troviamo un accordo altrimenti poi scallo sull'avvocato perché poi quella la strada da seguire è quella quindi i tre passaggi quali sono trovare un accordo tra le due tra le persone passare da un avvocato probabilmente la persona dall'altra parte dirà vabbè tanto mi hai mandato una lettera dall'avvocato non farei niente poi si scala a quello che è una causa in tribunale sono cose che vanno avanti per lunghissimo tempo e possono essere problematiche oltre che anche costose quindi va valutato di volta in volta se invece il lavoro è stato pubblicato su social media si può fare quello che è una richiesta di copyright strike quindi nel nostro caso prendo il link alla carta di identità digitale del lavoro ci sono i form su facebook instagram piuttosto che twitter ci sono i form da compilare si compila il form dicendo io sono autore originale di questo si incolla il link e lì c'è la prova che il lavoro effettivamente è di un'altra persona è stato registrato sicuramente prima e quindi torniamo al discorso nel momento in cui io diffondo il lavoro lo perdo perdo il controllo in cui è stato sicuramente registrato prima che venisse pubblicato sulla piattaforma a quel punto viene cancellato viene cancellato viene rimosso dalla piattaforma non la piattaforma fa da intermediario sono quasi tutte piattaforme americane quindi rispondono al digital millennium copyright act che è la loro normativa sul copyright fanno da intermediario quindi tolgono il lavoro pace fatta se c'è un danno economico vedete diventa estremamente complesso quindi in base al tipo di problema va affrontato di volta in volta il suggerimento in questo caso qual è? se c'è una violazione di copyright fate lo strike sul copyright costa niente semmai c'è solo un problema di barriera linguistica però non costa niente fate togliere il vostro lavoro se qualcuno lo sta plagiando nella maniera più assoluta se c'è un danno economico lì va visto qual è l'entità del danno economico un esempio che posso dare molto rapidamente un video su youtube monetizzato che abbiamo individuato quattro anni fa aveva fatto 220 milioni di view facendo i conti di quanto potrebbe essere stato monetizzato diventava diventava poteva essere interessante la cosa abbiamo provato a contattare l'autore ovviamente non ha risposto abbiamo contattato youtube chiedendo solo di mettere l'attribuzione perché a quel punto l'autore originale voleva solo l'attribuzione dire quello è un mio lavoro gli avrebbe dato sicuramente una visibilità importante youtube ha detto va bene nel dubbio spiana via e hanno cancellato video illustrazione riferimenti tutto quanto per cui va negoziata va vista di volta in volta in base soprattutto alla piattaforma ci è capitato un altro caso su redbubble merchandising creato con un lavoro tra l'altro di una mascotte creata dalla nostra art director 50 passaprodotti creati con la sua illustrazione abbiamo contattato redbubble avevano già venduto qualcosa abbiamo detto togliete tutto quanto abbiamo chiesto a chi aveva pubblicato di dare all'autore originale il 50% dei guadagni si è rinfiutato categoricamente abbiamo detto redbubble bloccato e tutto quanto perché non c'è l'autorizzazione non c'è un accordo scritto tra le parti quindi via il problema è che nessuno dei due poi ha preso soldi né quello che vendeva né l'autore originale del lavoro per cui sono situazioni al limite del paradossale in quel caso è tra l'altro giurisdizione australiana quindi ancora diversa torno al discorso del ginefraio di prima va vista di volta in volta va vista di volta in volta però se sono concorsi se ci sono dei mezzo dei soldi del merchandising o che altro strike di copyright che non fa mai male almeno io poi sono abbastanza sovversivo su sta cosa è un tema abbastanza astioso quindi non pensavo fosse così complesso e soprattutto magari che potessero capitare anche immaginavo potessero capitare queste cose magari chi ha plagiato un'opera non risponde o magari a vedere il rimborso ciao piuttosto cancelliamo tutto e boh abbiamo risolto così immaginavo però è un tema interessante sì assolutamente quindi anche sul tema del plagio se avete delle domande scriveteci pure qua sotto che secondo me è veramente un tema molto interessante da approfondire soprattutto se vi è capitato io spero di no però purtroppo so che a molti dei miei follower è capitato e insomma è bello anche sapere come potete tutelarvi ma è interessante assolutamente hanno il diritto di tutelarsi tra l'altro quindi non è un sentimento è un diritto assolutamente cioè sappiate c'è proprio un vostro diritto sia morale che legale cioè quindi assolutamente fatelo quindi se avete delle domande scriveteci a questo punto sempre sul tema appunto del plagio quindi di cui abbiamo già discusso prima voi offrite dei servizi in particolare agli artisti per proteggere le loro opere nel caso proprio in cui vengano plagiati prima citavi avevi citato qualcosa prima però ti faccio la domanda un po' più specifica allora sì noi offriamo quello che è la parte di intermediazione fino a che si tratta di un accordo tra le parti quindi cercare di contattare o la piattaforma o l'autore originale soprattutto se c'è una differenza linguistica quindi magari qualcuno non è abbezza all'inglese piuttosto che ci siano dei termini un po' complessi in quel caso sì il livello successivo invece se c'è un danno consistente abbiamo una rete di contatti con studi legali che possono dare supporto per la gestione di questo tipo di problema siamo in continua evoluzione quindi stiamo continuando a cercare di sviluppare sempre meglio i contatti però tendenzialmente in questo momento copriamo sicuramente l'Italia Inghilterra Polonia e Stati Uniti nostro malgrado dico nostro malgrado perché il territorio americano non è attualmente un nostro business quindi non siamo presenti sul territorio americano però il 90% delle piattaforme usate in Europa sono di giurisdizione americana quindi comunque abbiamo dei contatti a qualche livello abbiamo dei contatti anche con le piattaforme da oltreoceano però sono piattaforme ciò non toglie il fatto che se c'è un autore o comunque devono essere messi in contatto le parti si trova una soluzione per metterla in contatto senza problemi ok quindi insomma se dovesse capitare possono provare a contattarvi possono contattarci e vediamo come fare certo ok ragazzi se vi è capitato se mai vi dovesse capitare insomma adesso sapete a chi potete rivolgervi comunque proprio qua sotto il video vi lasceremo tutti i riferimenti insomma per insomma per approfondire e a questo punto Sebastia mi verrebbe da chiederti che allora in realtà hai già risposta a questa domanda però sempre parlando magari anche di ambito un po' più nello specifico ambito artistico passendo degli esempi un po' più concreti se dovessi immaginare le opere artistiche che possono essere caricate sul vostro sito quali citeresti giusto per fare anche un elenco così a discesa per esempio noi oggi noi oggi supportiamo quello che è il caricamento di quello che sono come tipologia di lavori o meglio come tipologia di media supportiamo tutte le immagini quindi png jpeg per cui coprono dalle illustrazioni alle fotografie file pdf che possono essere testi addirittura sappiamo che ci sono degli screen di format televisivi possono essere degli sketch di concept anche di idee startup cose di questo genere ovviamente manoscritti letterari e fumetti questo rientra nel formato pdf e anche file musicali per musicisti indipendenti quindi se qualcuno ha composto un brano indipendente può caricare anche un file in formato mp3 wav wave o aif mi pare che sono i tre formati principali quindi queste sono le tipologie di media che sono supportate stiamo lavorando anche sui video è un lavoro immenso che attualmente abbiamo dovuto posticipare però questi sono i formati dopodiché come tipologia possono essere fan art opere originali sulle fan art stiamo facendo uno studio molto approfondito per riuscire a trovare un modo per dare le attribuzioni giuste anche agli autori originali dei personaggi come tipologia di licenza la licenza del diritto d'autore quindi la legge sul diritto d'autore italiana perché siamo sul territorio italiano e tutto lo stack delle licenze creative commons quindi tutte le varianti di licenza creative commons questi sono i tre passaggi per la registrazione dopodiché basta si procede la registrazione avviene nell'arco di una decina di secondi e c'è la registrazione completata quindi si può già utilizzare il certificato digitale ok per quanto riguarda le opere tu consigli di caricare prima parlavi di jpeg per esempio o tipo noi artisti facciamo anche file su livelli generalmente diventano poi dei psd classico formato di photoshop consigli di caricare quello oppure uno può caricare anche l'immagine jpeg il problema del psd e dei word ad esempio per i testi è che io nel momento in cui apro il file e chiudo il file il file è cambiato in realtà anche se lo abbiamo soltanto aperto e chiuso il file è cambiato perché il programma sotto cambia dei metadati cambia delle informazioni da un punto di vista squisitamente legale il file pubblicato non è il file che abbiamo sul computer quindi io ho un certificato digitale su un determinato file una terza parte fa lo stesso controllo perché sono standard pubblici che si usa anche in analisi forense quindi utilizziamo già delle cose consolidate sul mercato non ci siamo inventati nulla dice però questo file non è quello che avete registrato diventa un problema legale la seconda cosa è che il psd non è quello che viene reso pubblico quindi c'è anche un problema di riconducibilità dell'originale che renderebbe molto più complesso il dimostrare del il dimostrare della dell'autorità questo perché in internet ha una velocità assolutamente isterica di quello che è la propagazione quindi quello che desideriamo arrivare ad avere è un tempo di risposta rapido e non dilungarci in ah ma mi hai mandato una cosa che non era quella allora devi mandare diventa una perdita di tempo per tutti quanti per cui sì solo ed esclusivamente immagini e contenuti che non possono essere modificati quindi non al sorgente sul sul come registrazione chiaro sappiamo bene che alcuni PDF per esempio assolutamente magari un PDF anche Word se si apre si chiude il file da un punto di vista forense cambia il file anche se non abbiamo modificato nulla per cui diventa diventa problematico ok ok quindi adesso lo sapete o immagini oppure magari fai PDF che non possono essere modificati quella è la cosa importante sì sì no il sistema comunque li rifiuta quindi se provate a caricare una cosa che non è un file PDF ah ok quindi non ci si può sbagliare chiaro perfetto avete pensato a tutto ci stiamo lavorando in continuazione quindi in realtà molti abbiamo ricevuto anche molti feedback di persone che ci hanno detto abbiamo trovato questo errore non riusciamo a caricare questo tipo di immagine in realtà sono feedback preziosi perché è vero che sono un problema però ci permettono di migliorare di volta in volta il sistema quindi la prendiamo bene non è che la prendiamo ma ah ma ci hai detto un problema allora non ti do più no anzi è l'esatto opposto certo ma questo dimostra anche quanto tenete comunque anche alle persone che vi seguono ai vostri clienti quindi è una cosa molto importante secondo me il supporto quindi complimenti davvero non è da tutti grazie e niente mi viene da chiedere l'ultima cosa quali sono i vostri progetti per il futuro e la vostra mission allora la nostra mission è quella di continuare ad offrire alla creatività in generale alla creatività un modo per tutelare il proprio lavoro quindi questo è il nostro il nostro core business sostanzialmente abbiamo un'altra serie di attività che facciamo marginalmente però è tutto finalizzato a continuare a creare quello che chiamiamo una piattaforma per armonizzare la gestione del diritto d'autore infatti anche il nostro pay off dall'anno scorso abbiamo una roadmap quindi abbiamo un'idea di sviluppo lunghissima le difficoltà essendo una società completamente autofinanziata quindi non è la classica start up che riceve milioni o centinaia di migliaia di euro siamo completamente autofinanziati e stiamo sviluppando tutto sulla base del lavoro che facciamo i tempi sicuramente si dilungheranno un po' per quello che riguarda la disponibilità di nuovi servizi però abbiamo molto chiaro in mente quali sono i servizi che vogliamo andare a sviluppare quindi tra le varie cose che abbiamo introdotto di recente c'è la possibilità di creare una specie di link tree per gli artisti dove però noi andiamo a verificare che effettivamente l'autore sia chi dice di essere che il profilo sia quello dell'autore quindi ogni canale social che viene elencato è non solo verificato ma è anche controllato in maniera che se c'è qualche problema avvisiamo l'autore dicendo guarda che c'è un'anomalia sul tuo profilo visto che i profili vengono rubati in continuazione diventa anche quello sta diventando un problema soprattutto se un account social ha un elevato numero di follower diventa sempre più appetibile per quello che sono i cyber criminali che poi diventa il mio spazio d'azione personale più chiaramente tutti i suggerimenti che raccogliamo in giro all'inizio ho detto abbiamo pochi canali social li stiamo stringendo perché preferiamo entrare in contatto direttamente con le persone quindi non campagne massicce sui social media pubblicizzando i servizi ma parlando con le persone sfruttando occasioni come questa per condividere e raccogliere anche feedback da parte del pubblico e avere informazioni di prima persona perché chiaramente al di là della fiducia che poi magari si può andare a costruire nell'arco del tempo però il feedback è molto più percepibile che tramite un email o un messaggio diretto tramite una piattaforma o un'altra anche perché non sai chi ti sta scrivendo dall'altra parte quindi quello che noi facciamo è analizzare il problema sul campo stiamo facendo dei sondaggi ad esempio su quali sono le problematiche sui furti magari poi mi permetto di mandarti il link su quali sono i furti o comunque i problemi più tipici sulle opere digitali quindi il repost piuttosto che l'utilizzo commerciale la rivendita la propriazione cose di questo genere proprio per da un lato sviluppare i nostri servizi dall'altro portare anche la voce degli artisti a eventi di maggiore importanza come potrebbero essere il Creative Commons Summit a cui abbiamo partecipato e abbiamo portato risultati degli autori quindi non quello che era la nostra osservazione ma quello che sono le voci degli autori che ci hanno dato informazioni abbiamo partecipato a diversi eventi a livello internazionale continueremo a farlo e continueremo a portare il risultato di quello che ci date come artisti quello che ci date voi come feedback e soprattutto percezione di un mercato che è estremamente difficile perché i problemi li vivete voi non li viviamo noi io posso avere una percezione di un certo tipo l'autore a cui continuano a rubare lavori ha una percezione completamente diversa ha molto più valore la sua voce rispetto alla mia questo è poco ma sicuro quindi cerchiamo di dar voce anche a chi crea e chi continua a realizzare lavori nonostante questo periodo di follia delirante certo trovo che questa sia una cosa molto bella che siete comunque vi mettete anche nei panni di noi artisti quando capitano queste cose a me non è mai capitato personalmente però comunque persone a me vicine sì ci si mette veramente le mani nei capelli cioè proprio sono cose ma diventa frustrante diventa frustrante che fa anche abbastanza abbastanza niente sebastian io intanto ti ringrazio tantissimo per la tua pazienza per avere risposto esaustivamente a tutte le domande io invito intanto tutti coloro che sono arrivati fino qui grazie a tutti spero che sia stata un'intervista molto interessante e se devo dire un parere personale per me è stata veramente colma di informazioni utilissime quindi veramente complimenti anche per essere stato molto chiaro nelle risposte che io sono neofita sull'argomento e davvero si è stato chiarissimo ho capito tutto complimenti per maggiori informazioni vi invito a visitare il loro sito vi lascio comunque qui sotto e anche in sovraimpressione vi metto il link del loro sito web dove potete trovare tutte le informazioni registrarvi e contattarli se avete bisogno di qualsiasi cosa e niente ricordo anche se avete delle domande sul tema fan art reference o diritto d'autore scriveteci pure un commento qua sotto il video che insomma saremo ben felici di approfondire l'argomento e niente io ringrazio ancora tutti coloro che sono arrivati fino a qua ringrazio ancora Sebastian per la pazienza e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao